La Madonna, il segreto della santità di Raimondo Giuliani. La Madonna vuole riprodurre in noi lineamenti del suo figlio divino. Ella ne è ben capace, essendo come la chiama Sant'Agostino, il modello di Dio, la forma di Dio. Ciò significa, dice San Luigi Maria di Grignon de Montfort, che in lei sola, un Dio fatto uomo, è stato formato al naturale, senza che gli mancasse alcun lineamento della divinità, e in lei sola, altresì, può essere formato l'uomo in Dio al naturale, per quanto ne è capace l'umana natura, attraverso la grazia di Gesù Cristo. Il segreto di Maria, numero 16. Ancora, Maria è il grande modello di Dio fatto dallo Spirito Santo per formare al naturale un uomo Dio per mezzo dell'unione ipostatica e per formare un uomo Dio per mezzo della grazia. A questo stampo non manca nessun lineamento della divinità. Chiunque vi è gettato e si lascia maneggiare, riceve tutti i lineamenti di Gesù Cristo, vero Dio, in modo soave e proporzionato all'umana debolezza, senza tanta agonia né tanto travaglio, in modo sicuro, cioè senza timore di illusioni, dato che il demonio non ha mai avuto né avrà mai accesso in Maria, santa ed immacolata, senza ombra della minima macchia di peccato. Il discorso del santo è molto chiaro. Ella è stata scelta da Dio alla missione divina di essere madre di Dio, non in una maniera passiva, ossia semplicemente ricevendolo belle fatto, ma ella riceve il verbo divino, andandogli la propria umanità, plasmandolo nel suo grembo virginale, a sua immagine e somiglianza, dandogli cioè la sua carne e il suo sangue immacolati, ella lo fa, secondo i suoi propri lineamenti santissimi, purissimi, virginali, essendo ella l'immacolata concezione. Quale meraviglia! Se la Madonna è capace di tanto per volontà e grazia di Dio, è anche vero l'inverso. Se la nostra vocazione universale è la santità, che si realizza nella nostra configurazione a Gesù Cristo, secondo le sue stesse divine parole, siate santi come io sono santo. Chi potrà mai presumere di realizzare una missione tanto ardua e veramente divina da se stesso, senza il soccorso della grazia? Sarebbe tanto presuntuoso quanto folle. Se Gesù Cristo poi non è voluto venire a noi, se non attraverso Maria Santissima, chi crederà di poter scegliere una via migliore di quella letta da Dio pensando di andare a lui per altri mezzi? Nostro Signore ama giungere alle anime attraverso Sua Madre, come ama che le anime si accostino a Lui attraverso di Lei. Difatti, Egli ha costituito Maria, mediatrice universale di grazia, e dimostra la potenza della di Lei mediazione, sia alla visitazione, quando Gesù santifica Giovanni il Battista e dà grazia a Santa Elisabetta del Grembo della Divina Madre, sia alle nozze di Cana, quando è la Madre Santa intercedere, perché Gesù compie il suo primo miracolo, ed Egli lo compie, nonostante non fosse ancora giunta la sua ora, solo per la intercessione di Lei. Come il desiderio di ogni mamma, non è indifferente ai suoi figli, così la Madre Divina ha grande influenza sul cuore del suo Figlio Divino. Se la Madonna è nostra mediatrice, ed è ben desiderosa di intercedere per noi poveri peccatori, soprattutto nell'aiutarci a realizzare la nostra vocazione e la santità, che è vivo desiderio e volontà di Gesù, e se ella è il nostro stampo, che ci può plasmare a somiglianza di Lui, è pur vero, però, che noi dobbiamo fare la nostra parte, ossia dobbiamo ricorrere a Lei, chiedere umilmente la sua intercessione, e gettarci in questo stampo immacolato per lasciarci fare. La nostra non sarà, come non è stato per lei, una mera passività. Abbiamo qualcosa da fare, forse molto da fare. Maria Santissima è un vero e proprio dono di Dio, ma non è solo un capolavoro da guardare e da ammirare, bensì un modello eccelso da imitare. Quando la Madonna Cana ha ricevuto il consenso di Gesù ad operare il famoso miracolo, ha detto ai servi, fate quello che vi dirà. I servi non se ne sono stati inermi a guardare, ma hanno dovuto collaborare con la grazia divina. Quello che dice a noi, Gesù, è di farci santi. Se finora abbiamo pensato alla santità come una cosa per pochi eletti, magari solo per coloro che consacrono tutta la loro vita a servizio esclusivo di Dio, abbiamo sbagliato. La santità riguarda tutti da vicino, non è fatta solo di bei pensieri, di ideali astratti e fluttuanti, ma di cose pratiche concrete. La santità coinvolge tutta la nostra vita. Si realizza anzitutto sulla base della grazia santificante che è necessaria e senza della quale non potremmo neanche salvarci. Si compie poi attraverso l'esercizio costante delle virtù da conseguire e nelle quali crescere sempre più. Ecco, la Madonna ci è data come modello ad esempio proprio in questo senso. Lei è la tutta santa e tutta ricolma e traboccante delle virtù di Cristo, la più simile a Dio in santità. La vera devozione alla Madonna, infatti, come dice ancora il Montfort, porta un'anima ad evitare il peccato ed imitare le virtù della Santissima Vergine, ossia la sua profonda umiltà, la sua fede viva, la sua obbedienza cieca, la sua orazione continua, la sua mortificazione universale, la sua purezza divina, la sua ardente carità, la sua pazienza eroica, la sua angelica dolcezza, la sua sapienza divina. Trattato della vera devozione a Maria, numero 108. Guardare a lei, accostarsi a lei, studiare le sue virtù, riprodurle chiedendo a lei simile grazia. Ecco il nostro compito perché come dice San Massimiliano Maria Colbe, quanto più l'anima si avvicina a lei, tanto più diventa pura la sua fede viva, il suo amore più bello e tutte le virtù, essendo opere della grazia, si rubustiscono e si vivificano. Non possiamo trovare la grazia altrove perché lei è la mediatrice. Conferenza numero 291. È dunque necessario avvicinarsi a lei perché dice ancora il Santo le sue virtù sono grazia viva che dunque non può non riversarsi su coloro che le si accostano con umiltà e fiducia. Si tratta di vivere sotto il suo sguardo, di chiederci ad ogni istante, prima di ogni azione, come farebbe la Madonna, anzi di chiederlo proprio a lei ed ella non tarderà certamente a suggerirci la sua virtuosissima tattica per evitare ogni peccato e crescere così sempre più in santità. La grande grazia del mese di maggio è proprio questa, riscoprire la Madonna, la sua grandezza, la sua dolcissima maternità, la sua potentissima intercessione perché, come ad ogni tempo liturgico, corrispondono grazie particolari, così anche per il mese di maggio. Bisogna non sciupare questo mese prezioso ma chiedere, chiedere numerosissime grazie alla Vergine Santa, prima fra tutte la grazia di unirci sempre più a lei fino a diventare suoi e di poter riprodurre, attraverso di lei, le sembianze del suo e nostro Signore a massima gloria di Dio e a salvezza di numerose anime.